L'ultima seduta del Consiglio regionale prima della pausa di agosto qui a Firenze si è conclusa con l'approvazione scontata alla vigilia della variazione di bilancio, la prima del 2021 e ad essa collegato dell'aggiornamento alla DEF regionale, il documento di economia e finanza. Non ci sono state sorprese, appunto il documento è stato approvato con il voto della maggioranza. Cosa c'è in questo atto? Moltissimi interventi tra cui spiccano alcuni sulla viabilità, ad esempio a Pistoia con la variante del Ponte Nuovo, a Firenze con la strada di Legri, a Pisa con 2 milioni in più e diventano 6 per la variante nord-est. Ci sono interventi cospicui anche per le scuole in Valdera. La Regione cofinanzierà poi i fondi europei. La valutazione politica per la maggioranza? Questa è una chiara risposta alla crisi. Del tutto negativo invece è il giudizio delle opposizioni. Di scelte irrilevanti e poco efficaci parlano i consiglieri del centro-destra. Sulla stessa linea anche il Movimento 5 Stelle che lamenta pure il poco tempo a disposizione per esaminare questi atti comunque così importanti. Di tutto questo parleremo tra sette giorni in una nuova puntata di Regionando, venerdì prossimo 6 agosto alle 21.15. Intanto però rivediamo cosa è successo nelle sedute di martedì 27 e mercoledì 28 luglio con tante interviste sugli argomenti principali. Nella prima seduta di questa settimana il Consiglio aveva approvato il documento di economia e finanza regionale. Il voto è stato a maggioranza. Stesso risultato per il rendiconto del 2020. C'era molta attesa anche per la riforma dello statuto regionale che dovrebbe comprendere l'istituzione del sottosegretario e l'allargamento dell'ufficio di presidenza a costi invariati ma c'è stato un rinvio a settembre. Anche la legge sulle case popolari con i nuovi criteri per le graduatorie sarà discussa a settembre. La Lega aveva annunciato un numero record di emendamenti. In Commissione era stata approvata anche una modifica proposta invece da Fratelli d'Italia. In Consiglio si parla a lungo di infrastrutture viarie, soprattutto della Firenze-Pisa-Livorno, arteria trafficatissima, oltre 50.000 veicoli al giorno che evidenzia da anni grandi criticità. La Regione ha fatto quel che poteva, dice il Presidente Gianni, ma ora si cambia strada, è il caso di dirlo, insoddisfatte le opposizioni. Un bel segnale verso la parità di genere nelle nomine regionali, una parità effettiva però, perché il voto del Consiglio adesso semplifica la norma in vigore e garantisce l'effettiva rappresentanza di uomini e donne. Ma cominciamo con l'argomento più attuale, più discusso e di sicuro, l'applicazione, dal 6 agosto del nuovo Green Pass. Siamo alla vigilia delle nuove regole di questo Green Pass e i consigliari si dividono sui provvedimenti decisi dal Governo. C'è chi li approva senza condizioni. Credo che la scelta del Governo sia una scelta corretta e che anzi dobbiamo valutare nelle prossime settimane, se anche sui mezzi di trasporto, nelle scuole sia necessario fare il Green Pass. Il mio appello alle cittadine e ai cittadini della Toscana è quella di vaccinarsi, vaccinarsi tutti, perché vaccinarsi non vuol dire difendere e tutelare solo se stessi, ma vuol dire tutelare tutti gli altri, tutti i cittadini. E questa è una scelta importante. Io mi auguro che ciascuno di noi possa vaccinarsi nel più breve tempo possibile. Noi siamo pronti, l'avete visto in questi giorni. Più dosi ci venivano date e più noi siamo in grado di vaccinare. E questo è lo strumento migliore per provare ad uscire da questa terribile pandemia. Io la vedo come, da un lato, uno stimola la vaccinazione, perché è chiaro che chi si vaccina con il Green Pass ha più opportunità, e dall'altro è l'espressione di una libertà che attraverso la vaccinazione si raggiunge. E penso che, onestamente, sempre più abituandoci a convivere con la presenza di un Covid che sarà sempre più ristretto nei suoi ambiti, perché sempre più saranno le vaccinazioni, è evidente che non si porrà nemmeno più il problema dell'uomo o della donna che non ha avuto la possibilità di vaccinarsi. Oggi coloro che vogliono e ragionevoli hanno l'opportunità di vaccinarsi. Su quest'ultimo punto, però, c'è una valutazione critica che arriva dalla capogruppo dei Cinque Stelle. Che questo Green Pass possa essere uno strumento di sicurezza e non di limitazione per le persone, deve essere fondamentale che le regioni mettano a disposizione la possibilità di vaccinarsi per tutte le persone, per tutti coloro che lo vogliono. E devo dire che da questo punto di vista ci sono stati molti intoppi in Toscana per quanto riguarda l'accesso alle vaccinazioni. E questo quindi ha creato una discrepanza, in pratica, tra quella che è la volontà di molte persone e quello che in realtà è stata la condizione in cui ci siamo trovati. Molto più articolate le posizioni all'interno del centro-destra, i più duri sono i consigliari di Fratelli d'Italia, l'opposizione anche a Roma e quelli della Lega. È più facile fare l'ideologica campagna sul Green Pass piuttosto che raccontare come mai non è stato speso un centesimo per mettere in sicurezza i mezzi pubblici e tra due mesi saremo di nuovo a preoccuparsi del fatto che le scuole riapriranno e come per magia gli autobus torneranno pieni, che gli uffici riapriranno e come per magia le persone saranno la mattina a aspettare il tram e l'autobus per tornare in ufficio. Su quello non è stato fatto niente. Non è stato fatto niente per mettere in sicurezza le scuole. La posizione della Lega sul Green Pass è che così com'è non va bene. Va sicuramente rivisto. In particolar modo dobbiamo tener conto in Toscana del fatto che noi siamo comunque sempre l'ultima regione tra le 20 d'Italia per somministrazioni di vaccino effettuate a ciclo completo, quindi le due dosi, e soprattutto siamo sempre nelle ultime posizioni per quanto riguarda le dosi consegnate e le dosi somministrate. Una posizione diversa, almeno da Roma, la esprime Forza Italia, in particolare con una lunga intervista dei giorni scorsi di Berlusconi. Ascoltiamo il capogruppo regionale Stella. Siamo fermamente contrari al Green Pass per entrare nei bar e nei ristoranti, anche perché ci siamo posti un tema. Io vado, sono vaccinato, ho il Green Pass, vado a mangiare, ma dovrei avere anche la certezza che camerieri, cuochi, pizzaioli, ho la stessa certezza, devono avere il Green Pass, invece così non è. Non so se sono vaccinati e non so nemmeno se sono tamponati. Però quello strumento può essere uno strumento utile per entrare nei teatri, per entrare nei cinema, cioè per garantire a quei luoghi che sono stati chiusi fino ad oggi di avere una capienza piena. Guardate, gli aerei entri o con il Green Pass o con il tampone, ma lo fai a capienza piena. Non si capisce perché se uno è tamponato nel Green Pass può andare a un teatro a capienza piena, può tornare al cinema a capienza piena. Lo statuto regionale è un po' la carta fondativa della Toscana. Sono in ballo da tempo alcune modifiche, non sui principi, ma sulla governance della regione. Dopo tante mediazioni sembrava esserci l'accordo per introdurre la figura del sottosegretario, come accade in altre regioni, e allargare l'ufficio di presidenza ad altri due membri, con una garanzia in più che il presidente Mazzeo aveva ribadito in diretta a Telegram Ducato qualche giorno fa. La scelta spetterà le forze politiche. Io ho lavorato e lavoro per garantire il rispetto dei regolamenti, però dico una cosa, finché sarò io presidente del Consiglio regionale, non ci sarà nessun aumento di costi legato alle persone, intendo dire ai consiglieri regionali, che si impegnano. Questo che vuol dire? Che non ci sarà il non assessore, che ci sarà solamente un sottosegretario, e il sottosegretario ci sarà, non perché dobbiamo dare una risposta, come leggo sui giornali a qualcuno, ma perché abbiamo bisogno di una persona che ci segua la programmazione e i fondi europei, e due membri dell'ufficio di presidenza. Questi senza aumento di costo. Si ricorda come abbiamo fatto qualche mese fa per la Commissione in più? Vuol dire che quella indennità in più viene divisa tra tutti gli altri consiglieri. Quindi, più politica, nessun aumento di costi. Alla vigilia delle sedute, queste modifiche sono diventate però un caso politico vero e proprio. Italia Viva si è opposta a chiudere ora la partita e ha determinato nuove tensioni con gli alleati del Partito Democratico, tanto da fare addirittura traballare l'alleanza. È una riforma che non ci ha mai convinto, che io in prima persona ho contrastato dal primo giorno. Ritengo che non sia opportuno, in un momento in cui c'è la pandemia, in cui c'è da fare i vaccini, c'è da riaprire le scuole, da dare sostegno al mondo economico, pensare a aumentare di 5 le postazioni di governo della nostra regione. Per carità, è legittimo pensarlo. Non metto in dubbio chi aveva avanzato questa proposta. Ritengo che non è il momento opportuno. Noi siamo contrari. Abbiamo sempre fatto una battaglia politica, io in primis, e siamo contenti che in questo momento si sia ritirata dalla discussione. Ci ha stato detto se ne parlerà dopo l'estate. Un mese, dico io, è lungo. È passato un anno a quel punto. Noi avevamo detto che in questo momento non era l'opportuno. Se poi sarà un mese o sarà un altro anno, arriveremo a metà mandato, non è un problema. Secondo me, i assessori, i consiglieri e le persone che hanno degli incarichi sono un numero congruo per garantire un buon governo della regione toscana. Risponde il Partito Democratico. Il suo capogruppo lega la questione alla storia della candidatura al Collegio di Siena. Noi non abbiamo mai ricercato lo scontro. Siamo per la collaborazione. Ovviamente rispettiamo gli altri. Vogliamo essere rispettati. Erano apparse strumentali alcune posizioni che si erano manifestate anche qui in regione che parevano essere magari funzionali poi a creare qualche problema sul territorio del Collegio. E le opposizioni cosa ne pensano? I toni, soprattutto nel centro-destra, non sono stati mai duri rispetto a questa mini-riforma. Ma c'è comunque una critica politica. Abbiamo lavorato, ci siamo venuti incontro, abbiamo smussato gli angoli. Per quanto mi riguarda era e resta inaccettabile il fatto che in questo periodo storico si possa pensare all'aumento di poltrone fuori dal Consiglio regionale perché credo sia una follia. Siamo arrivati a una proposta di riforma praticamente a costo zero perché il Presidente della Giunta può scegliersi dei sottosegretari ma può prenderli per forza tra i consiglieri regionali, cioè tra persone che sono già elette e quindi retribuite per fare i consiglieri regionali. Idem per l'ampliamento dell'ufficio di Presidenza. Quindi siamo riusciti, cancellando il non assessore, quindi siamo riusciti a produrre una proposta di riforma a costo zero. Non appena la riforma è diventata a costo zero una parte di maggioranza si è messa a gridare allo scandalo che volevamo aumentare le poltrone. Io credo che in questo momento pensare a delle riforme statutarie per raggiungere poltrone e ruoli in Regione Toscana quando fuori la situazione dal punto di vista socio-economico è critica sia folle e irresponsabile e soprattutto non è quello che meritano i toscani in questo momento che hanno dovuto ascoltare un documento economico finanziario di 27 pagine che si basa in pratica sulla loro fiscalità che dovrebbe supportare tutta quella che è l'attività che la Regione Toscana deve portare avanti. Già questo credo che dovrebbe far riflettere la Giunta e questo consiglio su dove incentrare il nostro lavoro. Se ne riparlerà in ogni caso alla ripresa dell'attività a settembre c'è un rinvio anche per la legge sulle case popolari nel capitolo che riguarda le gravatorie in commissione era stato recepito anche un emendamento di Fratelli d'Italia ricordiamolo. Il nostro emendamento prevede nello specifico un punto per chi è residente da tre anni e ce ne erano zero due punti perché è residente da cinque anni e ce ne erano zero tre punti perché è residente da dieci anni e la maggioranza le prevedeva soltanto due tre punti e mezzo per i quindici anni ne erano previsti tre e rimangono invece quattro punti per i vent'anni dopo vent'anni insomma cambia poco per noi l'importante era marcare una differenza tra chi sta qui da anche tre, quattro, cinque, dieci anni e chi è appena arrivato. La strada dunque sembrava spianata per una riforma di questi criteri una riforma definita dalla maggioranza molto urgente L'Anci ci ha scritto abbiamo detto L'Anci ci ha scritto che oltre 100 comuni sono in attesa di fare le gravatorie delle case popolari e erano in attesa perché se non risolvevamo questo aspetto rendevamo incerto tutto il percorso e quindi anche potenzialmente annullabili assegnazioni che venivano fatte in questo periodo sulla base di nove gradatori quindi è stato un elemento importante Ma la Lega si è opposta ha presentato più di duemila emendamenti e sulla loro ammissibilità ci dovrà essere un ulteriore pronunciamento così la legge slitta a settembre Sì perché è una modifica che va a penalizzare molto chi da tanti anni è residente in area toscana noi riteniamo che sia giusto che comunque queste persone queste famiglie che hanno fatto richiesta di accesso alle case popolari che tanti anni che si trovano sul nostro territorio che comunque hanno pagato le tasse sia comunali che regionali abbiano un requisito in più rispetto a chi arriva da un'altra regione o addirittura arriva dall'estero Sulle nomine regionali si cambia e si dà più possibilità alle donne garantendo un percorso verso un'effettiva parità di genere Mi piace considerare come si sia voluto dare ossequio al principio della parità di genere da un punto di vista sostanziale e non formale da una parte infatti è stato eliminato l'obbligo quando si propongono delle candidature di indicare necessariamente sempre la candidatura maschile e quella femminile perché questo non era garanzia del fatto che poi negli organi venissero ad essere rappresentati entrambi i generi Si è invece imposto che negli organi che sono eletti e disegnati dal Consiglio regionale ci sia una rappresentazione paritaria degli uomini e delle donne e che qualora ci possa essere una composizione dispari che un genere non possa essere rappresentato meno di un'unità rispetto all'altro genere Al voto il centrodestra si astiene Allora noi ci siamo assenuti su questa proposta di legge per un semplice motivo non perché non condividiamo naturalmente gli obiettivi che sono naturalmente perseguiti con questa proposta ma solo perché veniamo da una settimana in cui i tempi ristretti non ci hanno consentito di approfondire un argomento importante anche alla luce di quelli che sono gli eventi e di quella che è la sensibilità generale su questo tema Avremmo voluto un maggiore approfondimento e quindi abbiamo ritenuto che fosse lasciato aperto ancora uno spazio di trattativa con un voto di astenzione che di fatto non pregiudica però un nostro contributo eventualmente a settembre migliorativo della legge dove ci sono ancora degli aspetti che potrebbero essere più approfonditi e maggiormente limati Ci siamo astenuti sulla proposta di modifica della legge perché per un semplice motivo che continuo ad essere convinto che non servano le quote per garantire rappresentanza femminile ma servano persone preparate e capaci fino ad oggi non c'era evidentemente una legge che imponeva una parità di genere Fratelli d'Italia ha fatto quattro nomine in questa legislatura due sono uomini e due sono donne non le abbiamo scelte per quote ma abbiamo scelte le persone più capaci e quando scegliere le persone più capaci casualmente viene fuori che le persone capaci sono sia uomini che donne altri due pareri uno di opposizione l'altro di maggioranza credo che fondamentalmente sia necessario un salto culturale e mettere nella nostra società le donne nella condizione di poter competere e essere all'interno del mercato del lavoro ma anche banalmente di quello che riguarda le attività del Consiglio regionale le nomine appunto in condizioni di parità questo è il salto culturale che ci aspetta deve essere aiutato anche con dei passaggi legislativi ma deve essere appunto un aiuto che in questo momento serve a soltanto compensare delle carenze ma lo vediamo positivamente in ogni caso La legge raccoglie le mie proposte che sono forti perché finalmente la parità di genere non diventa soltanto un principio né uno slogan diventa fattiva serve attuarla concretamente un impegno concreto del Consiglio regionale negli incarichi nelle nomine sia tecniche che politiche in tutti i consigli nelle consulenze una presenza paritetica di donne e di uomini che consente di far emergere merito e qualità ma soprattutto un coinvolgimento attivo e fattivo della commissione pari opportunità rispetto a un processo di informazione di comunicazione e di divulgazione di quello che diventa fondamentalmente un principio cardine che la regione si impegna in prima persona ad attuare ogni anno nella ripartizione degli incarichi che vengono assegnati anche tenendo conto non soltanto elementi politici ma soprattutto elementi qualitativi e tecnici sono molti altri gli atti approvati dal consiglio regionale intanto sui cosiddetti hobbisti che però vengono definiti adesso operatori non professionisti vengono consentite fino a 10 partecipazioni all'anno erano 6 nei mercati quindi si tratta di una riforma del codice del commercio vengono approvati anche i bilanci del parco delle apuane quello preventivo del 2021 e quello pluriennale fino al 2023 il bilancio preventivo del parco di San Rossore tra 7 giorni parleremo nel dettaglio con tanti commenti dell'importante variazione di bilancio approvata in queste ore già prima era stato detto sia maggioranza al documento di economia e finanza regionale per il 2022 un atto programmatorio che dovrà essere integrato dalla nota di aggiornamento al DEFRE che arriverà in autunno e che deve comunque saldarsi con un quadro che non è ancora propriamente integrato poiché la parte programmatica di questo documento ha bisogno di ancorarsi al piano regionale di sviluppo che al momento non è ancora stato posto all'attenzione del Consiglio regionale da parte della Giunta inutile dire che il quadro nel quale si inserisce questo documento di economia e finanza è un quadro estremamente complesso derivante dagli effetti della pandemia alla luce del quale è difficile anche calibrare esattamente quale potrà essere la manovra per l'anno 2022 l'unica certezza che ad oggi abbiamo è che quella manovra non potrà comportare degli aggravi fiscali a carico dei cittadini perché questo sarebbe incompatibile con le prospettive di ripresa dell'economia che tutti ci auguriamo possano esserci alla fine della pandemia e con uno sguardo retrospettivo c'è stato il voto sempre a maggioranza sul rendiconto del 2020 il rendiconto si è chiuso con un utile formale di 97 milioni in realtà c'è un disavanzo complessivo di quasi 1 miliardo e 700 milioni in diminuzione rispetto agli anni precedenti ma comunque come ha ricordato anche la Corte dei Conti nel giudizio di parifica si tratta comunque di un disavanzo molto rilevante la regione toscana ha problemi di organizzazione dal punto di vista del personale ha problemi di trasparenza ci ha detto la Corte dei Conti anche dal punto di vista soprattutto della spesa sanitaria con una moltiplicazione di capitoli che non consente di capire bene tutto il flusso di denaro dove va e dove viene impiegato sono numeri importanti che la Commissione di Controllo ha esaminato approfonditamente e nell'esprimere a maggioranza naturalmente parere favorevole ha anche raccomandato al Presidente Gianni che si è voluto tenere la delega al bilancio di essere presente ai lavori delle commissioni perché è opportuno fare anche delle valutazioni politiche strade ancora strade per far crescere la Toscana in particolare oltre alla Siena Firenze e la Siena Grosseto la Firenze Pisa Livorno soprattutto questa con i suoi mille guai e con la prospettiva che la gestione passi presto a Toscana Strade S.P.A una nuova società in house sarà una gestione più snella assicurano dalla giunta e dalla maggioranza e comunque dice l'assessore Parcelli la regione ha operato tempestivamente sui problemi di questa grande arteria su cui viaggiano più di 50.000 veicoli ogni giorno c'è bisogno di una prospettiva di utilizzo di manutenzione anche di organizzazione dello sfruttamento di quella infrastruttura che poi la società strade toscane possa essere il soggetto più adatto questo lo vedremo certo c'è bisogno di un congegno che tenga insieme tutte le esigenze di un territorio complesso e di una rete viaria che è diventata strategica e sempre di più insieme alla rete autostradale le critiche più forti alla nuova gestione arrivano ancora dal Movimento 5 Stelle deve soprattutto una strategia che coinvolga anche il governo perché non è possibile a questo momento che la regione possa fare da sola e trovo che in questo momento la proposta di un SPA che debba gestirla sia fuori luogo e soprattutto non ben ragionata ricordiamoci che la regione deve anche cercare di dare dei fondi in più il dibattito era stato sollecitato da un'iniziativa di Fratelli d'Italia noi facciamo ogni giorno appelli ai cittadini toscani perché non vadano a portare i loro soldi fuori dalla Toscana ma rimangano in Toscana a fare le vacanze investono nel comparto turistico toscano un fiorentino oggi impiega due ore e cinquanta tra treno e aereo ad andare a Ibiza e tre ore e dieci con la FIPRI ad andare a Castiglioncello diventa difficile convincere a rimanere in Toscana infine il parere della Lega ecco la consigliere Ameini che quella strada la percorre ogni giorno si parla di un piano di investimenti una legge regionale del 2012 già proponeva un tempo sul piano regionale degli investimenti la scadenza era marzo del 2013 doveva esserci una relazione in consiglio regionale sono passati sette anni e ci viene richiesto ulteriormente nella mozione il piano degli investimenti quindi si riparte da quel tempo dal 2012 ad oggi non c'è stato nessun sviluppo sulla FIPRI ecco quindi io credo che sia un tema che si riutilizza nelle varie campagne elettorali ma che ad oggi da parte di questa giunta e di questa maggioranza non ha una soluzione regionando oggi finisce qui tutte le interviste sul primo argomento trattato l'importante variazione di bilancio saranno tra una settimana venerdì 6 agosto sempre dopo il Tg della Sera grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti